state scherzando state scherzando che sta succedendo perché sono giapponese è un bug bellissimo questo non so cosa stia succedendo ma comunque è bellissimo allora da quello che riesco a leggere un iso takura katikaki cinchampai kufu kamabuto e poi l'altro nome non riesco a distinguerlo comunque è tutto molto con i nomi dei box il verde chi è che sta morendo così mi sono regolare l'arancione che sta morendo questo momento chi è ho capito ci sono se non ci fa vedere i nostri nomi sta succedendo a me da soltanto c'è non non è che ci sono ma da soltanto il numero è un visibile sulla mappa non vedo una segna ma io forse sono in un timbre sono con un altro timbre ragazzi il verde chi è sicilio verso di me io sto soltanto sei davanti a me coccuruto vieni qua ma chi è questo coccuruto ah l'arancione tic toc la vedo normale ma non mi hanno sparato sono un altro team ma siamo in team diversi allora ragazzi mi state sparando fra di voi ma ci sono due arancioni ma che cazzo sta succedendo c'è davanti a mezzo a corone c'è davanti a mezzo a corone tre quattro perché ci sono tutti questi arancioni